Confisca definitiva di beni per 7,5 milioni di euro, nello specifico il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica, DDA, ha emesso un decreto di confisca del patrimonio di Enrico Splendore, divenuto irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione, per un valore compersivo di circa 7,5 milioni di euro, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. Splendore nel tempo è stato condannato per il reato di esercizio di giochi d'azzardo, nonché per associazione per delinquere, esercizio abusivo di attività di gioco o scommesse, in particolare per aver capeggiato un'articolata organizzazione finalizzata alla gestione di scommesse clandestine attraverso una capillare reta di raccolta parallela rispetto a quella dei centri di scommesse autorizzati, che si avvaleva di programmi informatici elaborati ad hoc, circostanza confermata anche dalla dichiarazione di collaboratori di giustizia. Il procedimento di prevenzione, che ha preso le mosse proprio alla valorizzazione degli elementi di indagine che hanno portato all'emanazione delle sentenze di condanna, ha fatto emergere, grazie agli accurati approfondimenti economico-patrimoniali svolti agli specialisti e al nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni e le attività nelle disponibilità dello splendore, cui in particolare è riconducibile l'omonimo bar, noto punto di riferimento cittadino nel campo delle scommesse sportive, situato nel centro del quartiere Sette Cannoli, ricadente nel territorio di influenza della famiglia mafiosa di Corso dei Mille. Nel 2019 il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, facendo proprio le ricostruzioni effettuate dai finanzieri, ha ritenuto ricorrenti gli elementi per considerare l'imprenditore soggetto socialmente pericoloso, in quanto risultato vivere abitualmente dei proventi delle citate attività dirittuose e per questo disposte nel sequestro del patrimonio riconducibile al preposto. All'esito dell'iter processuale è ora intervenuta la definitività della confisca dei seguenti beni, quattro immobili a Palermo, due rapporti bancari, l'intero compendio aziendale dell'impresa individuale a insegna Bar Splendore, quote di partecipazione al capitale sociale di un'azienda operante nel settore dei trasporti, tre veicoli per un valore complessivo stimato di circa 7,5 milioni di euro.